Il sindaco Rinaldo Melucci rilancia in un proprio comunicato afferma dal commercio alla mitilicoltura ci attende una primavera di grandi manovre per spingere la ripartenza della città e costruire un clima di maggiore fiducia. In arrivo gli incentivi e una soluzione per la flotta peschereccia e intanto continua il confronto polemico soprattutto tra ex alleati dopo la richiesta di dimissioni fatta dai 17 consiglieri di maggioranza tra cui Luigi Abbate nei confronti del presidente Piero Bitetti, reo di aver abbandonato l'aula consigliare facendo cadere il numero legale, è proprio Bitetti che chiarisce di essere stato costretto soltanto per un problema improvviso di salute con un picco di pressione che lo ha costretto ad abbandonare i lavori del consiglio nei quali in precedenza invece aveva partecipato votando anche sui primi due punti all'ordine del giorno. Intanto dal Partito Democratico un comunicato nel quale si legge al presidente Bitetti la solidarietà alla vicinanza del PD di Taranto per essere diventato oggetto di attacchi strumentali tipici ormai di un'amministrazione camaleontica che raggiunge in questi giorni l'apoteosi riferendosi all'ingresso in maggioranza proprio del consigliere Abbate. Ma torniamo al sindaco in un lungo comunicato sui giochi del Mediterraneo scrive troppe chiacchiere infondate sui giochi. Alla fine siamo contenti di apprendere dalla stampa che finalmente il presidente Michele Emiliano abbia raggiunto un'intesa con le forze di governo e che si sia attivato inoltre per la convocazione dell'Assemblea di liquidazione del vecchio comitato organizzatore. Siamo certi, conclude Melucci, che tutti insieme senza strumentalizzare più tifosi, amministrazioni e iniziative pubbliche si raggiungeranno i risultati attesi.